musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo veramente una tonnellata di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite tante cose sono state dette ieri a partire dagli update che ci sono stati per console e per pc non hanno ragazzi risparmiato assolutamente nulla nel video di oggi parleremo ovviamente della nuova rtx e del ray tracing poi parleremo anche della collaborazione di fortnite con rocket league e di tanti leaks appunto per questa season 4 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta nuovamente di una novità per quanto riguarda il party royal e la serie di concerti che fortnite ci aveva già annunciato settimana scorsa direttamente dalla pagina twitter sometimes uni da little anderson park and free national xxx fortnite present spot like concert series continuo september 19 at 5 pm quindi ragazzi un nuovo concerto dopo quello di dominic fic della settimana scorsa arriva un nuovo ragazzo che si chiama appunto anderson park con il nuovo con il suo nuovo singolo lo potrete appunto vedere come sempre nel palco principale del party royal e tra qualche giorno sicuramente arriverà anche la notizia ufficiale in game quindi tanta tanta roba anche per questa serie di eventi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché un'altra grandissima notizia arriva come sempre dalla pagina twitter di fortnite celebrate rocket league going free to play on september 23 starting that weekend jump into rocket league lama rama to earn all sony in game rewards for both rocket league and fortnite da il giorno 23 settembre rocket league che è stato acquistato qualche mese fa da epic games diventerà completamente gratuito il giorno 23 e per celebrare come dice il post questa nuova collaborazione hanno deciso di mettere dei premi che verranno poi sbloccati su fortnite semplicemente giocando appunto a rocket league non sappiamo ovviamente con chiarezza di che premi si trattano ma ieri sono stati aggiunti due nuovi pack sul gioco il rocket league jager pack e il rocket league endo starter pack tra l'altro ragazzi non risultava che su rocket league si potesse shoppare o ci fosse appunto un negozio ma insieme alla possibilità di averlo gratuitamente verrà inserito anche il codice supporta creator ovviamente ragazzi il mio è sempre xuderone quindi utilizzandolo oltre che a supportarmi su fortnite lo potrete fare anche su rocket league per quanto invece riguarda un'altra un altro piccolo spoiler un'altra considerazione che viene fatta si dice che download rocket league on the epic game store get 10 dollari quindi scaricare il gioco rocket league dallo store di epic games vi farà guadagnare 10 dollari da settembre 23 a ottobre 23 tutti quelli che scaricheranno rocket league sullo store di epic games riceveranno un coupon da spendere su fortnite di 10 dollari che potrà essere utilizzato per le qualifiche ai tornei io non so sinceramente non sapevo ci fossero dei soldi di partecipazione oppure degli addons in game che costeranno più di 14 99 in poche parole se arriverà uno nuovo bundle che costa 15 euro e voi avete scaricato rocket league avrete semplicemente la spesa di 5 euro perché 10 appunto ve li regala epic games è veramente una figata anche questo e quindi non a caso probabilmente sta arrivando il nuovo bundle quello è quello corrotto dove c'è shogun dove c'è le altre due skin appunto che verranno proposte in game con due varianti potrete appunto pagarlo solamente 5 euro tra l'altro dicono che i giocatori che loggeranno con il loro account di epic games riceveranno il sun ray boost and hot rocks trail for free il che vuol dire ragazzi che ci saranno sembrerebbe anche due nuove scie ottenibili gratuitamente semplicemente giocando a rocket league adesso non so se per caso venga utilizzato il metodo che si usa anche per battle breakers quindi giochi un po al gioco in questione raggiungi degli obiettivi e automaticamente poi ti trovi su fortnite il regalo in questo caso per battle breakers erano le due skin corumura e rasor che però andavano su salva al mondo poi qualche giorno fa sono state invece inserite nel battle royale immagino sia la stessa cosa ma guardate questa immagine davvero bellissima io non so perché ma mi viene in mente che la ruota di questa macchina possa essere uno standardo mentre il boost blu potrebbe essere invece una scia non lo so mi piace davvero tanto immaginare che sia così e quindi tanta roba per questi nuovi regali che arriveranno con la nuova collaborazione di fortnite con rocket league andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla di ray tracing according to pc world ray tracing di lss and nvidia reflex will be officially added to fortnite on settembre 17 quindi il 17 settembre ufficialmente arriveranno delle nuove feature su fortnite innanzitutto voglio farvi vedere il trailer ufficiale direttamente da nvidia ragazzi come potete vedere la qualità e la grafica che arriveranno su fortnite con con questo ray tracing ovviamente purtroppo ecco scusatemi non siete riusciti a vederlo eccolo qua sarà veramente un qualcosa di fenomenale già ne ho parlato anche sulla pagina instagram di come abbiano cambiato le nuvole inserendo appunto il volumetrix clouds e di come cambierà invece l'acqua e i riflessi questo per garantire ovviamente una miglior giocabilità ma non saranno le uniche cose che cambiano perché arriva proprio un post dedicato da parte di nvidia che io mi sono preso la briga di tradurre in italiano e che dice la fantastica tecnologia di lss si di nvidia sarà introdotta insieme ad essa per aiutare a rivendicare i frame persi a causa di tutti quei raggi in tempo reale che vengono trasmessi o presumibilmente per aumentare i frame rate di fortnite ben oltre quello che la tua scheda grafica potrebbe normalmente gestire se scegliessi di non abilitare il ray tracing fortnite aggiungerà anche l'invidia reflex una nuova funzione opzionale che secondo invidia può ridurre notevolmente la latenza nei giochi supportati rendendo più veloci i click del mouse in azioni sullo schermo nei frenetici giochi esports in cui ogni millisecondo conta reflex è un enorme vantaggio call of duty warzone valorant destiny 2 apex legend modern war for warfare e black ops hanno in programma di integrare invidia reflex nel prossimo futuro quindi ragazzi tante nuove funzionalità da parte di invidia una figata veramente incredibile avere la possibilità di ottenere quei frame che vengono persi dalle nostre schede video perché attenzione qua per adesso non si parla di dover cambiare scheda video sembrerebbe proprio una nuova tecnologia che sfrutti delle potenzialità che io purtroppo non conosco delle schede video insomma ragazzi le novità sono davvero tantissime il futuro di fortnite è sempre più roseo e il divertimento ovviamente non accenna a terminare io vi ringrazio tantissimo per guardare per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao grazie a tutti